pace e bene cari fratelli e sorelle bentrovati gratuitamente avete ricevuto gratuitamente date con questa indicazione si conclude la sezione del discorso missionario di questa domenica gesù ci consegna uno stile ecclesiale e personale da incarnare lo stile della gratuità vi propongo di partire dal contesto per poi fare un viaggio nel nostro cuore gesù si è trovato davanti a folle stanche sfinite come pecore senza pastore ne sente compassione e dopo aver chiesto di pregare il padre perché mandi nuovi operai del vangelo chiama sei discepoli conferendo loro il suo stesso potere di liberare dal male e guarire la vita delle persone quindi li invia dicendo loro strada facendo predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino guarite gli infermi risuscitate i morti purificate i lebrosi scacciate i demoni e a questo punto dice gratuitamente avete ricevuto gratuitamente date come a dire ti dono tutto la chiamata la mia parola me stesso il mio potere di amare di liberare tutto ciò che hai e sei è un dono dunque dona gratuitamente miei cari chi di noi può dire di meritare ciò che ha chi di noi può dire di meritare che il figlio di dio abbia dato la sua vita per noi che ci sia venuto incontro che ci abbia chiamati alla fede salvandoci dai nostri baratri liberandoci dai nostri peccati chiamandoci da vite distrutte dissolte dissolute ma chi di noi può pensare che la nostra vocazione sia un merito tutto è grazia tutto è un dono frutto dell'amore scandaloso di dio per noi della sua gratuità della sua generosità non gli è bastato dar la vita per noi sulla croce e continuare a donarsi a noi nell'eucaristia ma ci ha consegnato tutto ha messo nelle nostre mani nelle nostre vite un tesoro e ci chiama a donarlo a nostra volta allora da dove sgorga la nostra capacità di amare gratuitamente di annunciarlo senza interesse nasce dalla consapevolezza di questa gratuità di dio nei nostri confronti nei miei confronti nasce dal far mia questa sua gratuità aprendo il cuore alla sua grazia dunque la gratuità nasce dal ricevere e si prolunga nel dare e aggiungo si alimenta nel ringraziare la gratitudine alimenta la gratuità tanto più sono grato per quello che ho ricevuto tanto più sarò gratuito nel modo di donarmi un salmo dice anima mia non dimenticare tanti suoi benefici ecco perché miei cari è sempre bello partire dal far memoria delle grazie di dio nella nostra vita e ogni giorno nella preghiera iniziare sempre dal rendere grazie al signore per delle cose belle ricevute vissute nell'arco della giornata e soprattutto celebrare l'eucaristia domenicale che il più grande potente rendimento di grazie a dio che si dona a noi e per noi potremmo chiederci a che punto siamo con la nostra gratitudine il cardinale newman diceva ognuno confronti quanto ha pregato nel momento della prova a quanto ha ringraziato quando le sue preghiere sono state esaudite viceversa quando è che smettiamo di essere gratuiti che iniziamo a far pesare tutto a far pagare tutto quando dimentichiamo che tutto è grazia e che nulla ci è dovuto pensate anche in un rapporto di coppia se dimentico che ogni piccolo atto d'amore dell'altra persona è un dono immenso che anche il più piccolo gesto di servizio ha un valore infinito perché tempo di vita che l'altra persona mi sta dedicando e riduco tutto a un atto dovuto perderò la gratitudine e non mi basterà mai se inchiodo l'altro alla pretesa che faccia ciò che io voglio e non so vedere il bene che mi vuole non sarò mai felice semplicemente perché sto immolando l'altro sull'altare del mio egoismo e più perdiamo di vista che tutto è dono più tendiamo a impossessarci delle cose faticando a donarle e chiedendo compenso per tutto ciò che facciamo sì come dice san francesco d'assisi il contrario dell'amore è il possesso ora miei cari non dobbiamo aver paura di guardarci nel cuore e riconoscere le nostre mancanze di gratuità sia nel rapporto con dio sia nella nostra missione facciamo qualche esempio pensate anzitutto al rapporto con dio quante volte pensiamo che la nostra fede il nostro amore per lui siano gratuiti ma poi arrivano le sofferenze le difficoltà ed ecco i lamenti signore perché proprio a me è questo il ringraziamento per i miei sacrifici al di là dello sfogo comprensibile in quei momenti che in fondo è anche preghiera questo tipo di ragionamento nasconde però un po di mancanza di gratuità nei suoi confronti sì signore io ti amo ma ti pregavo pensando che tu mi facessi stare bene della serie io metto qualche gettone nel distributore ma aspetto che ci siano le lattine in cambio o pensiamo anche nella prassi pastorale quanti scandali a causa dei soldi siamo arrivati a apprezzare pure i sacramenti in alcuni casi o a chiedere offerte anche cospicue per la qualunque basti pensare che ancora oggi persone semplici e purtroppo da noi poco formate pensano che la messa si paghi che la benedizione si paghi povera gente spieghiamogli e mostriamogli che la grazia di dio non si paga è gratuita si accoglie quante volte anche noi sacerdoti perdendo di vista la cura delle persone della loro vita della vita spirituale e la grandiosità del ministero affidatoci come figli ingrati iniziamo a cercare incariche e carriere visibilità e ruoli quante volte facciamo pesare ciò che dovrebbe essere semplicemente nostro dovere parte della nostra missione e della nostra vita donata altro che gratuitamente avete ricevuto gratuitamente date o quante volte si fa del servizio in parrocchia un possesso fosse anche solo accendere le candele dell'altare o far le pulizie il segno non si fa spazio agli altri e se per caso il parroco ci chiede di metterci da parte fuoco e fulmini ma come io servo da tanti anni e questo è il ringraziamento cioè noi stavamo cercando noi stessi in quello che facevamo il nostro compenso un ritorno altro che servizio gratuito disinteressato capite quanto è subdolo il tarlo del guadagno della ricerca del tornaconto e guardate che potremmo allargare ad ogni relazione se ad esempio in una relazione di coppia io mi relaziono all'altro aspettandomi che l'altro corrisponda come dico io e come voglio io ad ogni mio gesto se inizio a centellinare tutto ciò che l'altro fa per me se inizio a fargli pesare tutto ciò che io faccio oppure ho fatto per lui o per lei capite bene che quel rapporto diventa una cappa asfissiante pesante perché viene a mancare la gratuità e anziché far sentire l'altro amato per ciò che è lo farò sentire amato per ciò che fa o solo se mi dà se questo atteggiamento si incancrenisce venendo a mancare la gratuità viene nemmeno anche la libertà e di conseguenza la felicità viceversa dove ci si dona per il vero bene dell'altro per amore dell'altro facendo sentire amato l'altro sarà proprio quest'amore che implicitamente muoverà l'altro a corrispondere a tirar fuori il meglio ora miei cari come possiamo esercitarci ad amare gratuitamente beh anzitutto accogliendo la grazia di quest'amore gratuito nella nostra vita e imparando a ringraziare per tutto ciò che ogni giorno ci è donato in ogni cosa rendete grazie ci ha detto san paolo tutto è grazia tutto è un dono tutto è un regalo quindi a nostra volta imparare a dare senza aspettarci nulla in cambio imparando a prendere a picconate il nostro egoismo togliendo di mezzo quei pensieri di tristezza nel momento in cui non riceviamo quello che avremmo pensato voluto imparando a trovare la nostra gioia unicamente nell'aver dato e quella gratuità che può aiutare anche gli altri ad aprire il cuore all'amore di dio perché sentendosi gratuitamente voluti bene possano liberamente aprirsi e corrispondere al signore e a noi mi viene in mente quella storia bella di un uomo che entrò in una comunità di recupero di persone con dipendenze quest'uomo giovanni non soltanto uscì dalla sua dipendenza ma grato a dio e agli operatori di questa casa iniziò a farvi volontariato era estremamente generoso il primo a prendersi cura delle persone con crisi rastinenza a fare i lavori più umili a parlare di gesù alla gente un giorno il sacerdote che si prendeva un po cura degli ospiti fece una riunione erano seduti tutti in cerchio e iniziò a parlare di gesù ai nuovi arrivati ad un certo punto un uomo alzò la mano e gli disse padre io questo gesù di cui lei parla non lo conosco ma mi dica una cosa è almeno buono quanto giovanni ecco miei cari è la gratuità che rivela quanto veramente abbiamo incontrato e accolto il signore allora cari fratelli e sorelle lasciamoci scavare dentro da questa parola tanto bella di gesù gratuitamente avete ricevuto gratuitamente date questa parola ci consegna uno stile da assumere lo stile di dio del suo amore gratuito che tutto dona e tutto si dona che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti